musica tu che hai da dirmi morgana? hai finito di pensare ai fatti di oggi? futaba ti aspetta ma non fa culo ciao futaba oh che piccolina oh ti amo mmm capisco cosa? ma come? voglio dire con questo qui cavolo quindi è così futaba si sta facendo davvero in quattro per analizzare sofia allora che ne pensi futaba? come ti sembra il codice di sofia? beh il suo programmatore è un genio su questo non si discute basta leggere il suo codice per capire tutto di lui l'abilità ma anche le attitudini i processi mentali addirittura la sua personalità questo codice è così avanzato che nemmeno io riesco a leggerlo e comprenderlo immediatamente mi ci vorranno settimane anzi mesi per capire davvero come funziona sofia mesi dici? certo che quel programma è roba tosta non capisco vuoi dire che sono fuori dal comune? ovvio che sei fuori dal comune sei una sorta di super ya se ti mettessero in commercio Emma diventerebbe subito obsoleta lo sapevo obsoleta? quando una cosa è popolare ma poi smette di essere diventa obsoleta vuol dire che la gente non la usa più ok capito sai molte cose futaba non insegnarle troppa roba strana ok già che ci siamo hai trovato qualcosa riguardo al passato di sofia? il nome del suo programmatore o quello sull'azienda magari? ancora niente e pensare che la maggior parte di essi lascia una sorta di firma nelle loro creazioni che sia il suo creatore un lavoratore che ha lavorato Emma ma ha capito che Emma è una roba cattiva allora ha creato Sofia in modo da salvare l'umanità visto che è l'amica dell'umanità comunque continuerò a lavorarci su da casa ti farò sapere quando avrò delle novità posso accompagnarti a casa non preoccuparti è proprio dietro l'angolo anche volevo venire via con te futaba bene gente io me la do a gambe fai attenzione ciao oh se la da a gambe? cosa vuol dire? abbiamo dato una buona notte a futaba e poi siamo andati a dormire che serataccia cavolo che razza di giornata non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere non possiamo fare altro che prepararci allora giusto se ci lanciamo a capofitto senza prepararci a dovere non saremmo degni del nome ladri fantasma beh la ricomparsa del metaverso sarà anche stata una sorpresa ma è nulla in confronto a sofia mi hai chiamata? stavamo solo discutendo di come tu sei un enorme mistero disse il gatto parlante ah oh t'è ragione questo è Indiscutibilmente vero Oh dai, ora non esagerare Sono l'amica dell'umanità Se non sono d'aiuto, ora sono inutile Non essere così dura con te stessa Almeno questo lo ricordi, no? Giusto, credo voglio dire che è importante Ma essere d'aiuto è l'unica cosa che fai per diventare un'ottima amica? Non è così che funziona Per favore, spiegamelo Altrimenti, come si fa a essere un'amica? Beh, ecco È un po' Immagino che tu debba trovare un modo per comprendere il tuo cuore umano Per comprendere il cuore umano Il cuore? Giusto, così sarai in grado di capire cosa provano gli altri Potrai diventare una buona amica per loro, credo Il cuore umano Ascolta, non preoccupartene Non devi fare altro che unirti a noi E imparare da tutti i tipi di persone che incontriamo In cambio dare una mano in ladri fantasma Immagino che potremmo definirlo un accordo Ok, mi sembra un ottimo accordo Soprattutto perché mi aiuterà a diventare una buona amica per l'umanità Eh già, patto che il leader sia d'accordo Impegniamoci tutti assieme Perfetto Ok, lo faremo tutti assieme Affare fatto allora Sono felice di averti a bordo, Sofia Avremo un po' da esplorare domani Dovremmo riposare Già Ok, buonanotte Morgana Fionix Ma dormiamo col telefono in tasca? Sono passati solo già due giorni E già guarda che casino incredibile che abbiamo fatto Siamo tornati al nostro vecchio ritrovo a Shibuya Per andare a esplorare la prigione insieme Ottimo, ci siamo tutti Ci infiltreremo nella prigione Siamo pronti? L'abbiamo fatto un sacco di volte Nessuno si è raccolto impreparato Giusto fratello Fatevi sotto Abbiamo ben poche informazioni Quindi dobbiamo fare attenzione Questa volta limitiamoci a esplorare l'area Usiamo Emma per entrare, giusto? C'è qualcosa di speciale che dobbiamo fare? No, abbiamo semplicemente aperto l'app E' pronunciato la parola giusta Basta trovare il nome giusto E nei risultati di ricerca di Emma Inserire la parola chiave Corretta nella schermata di richiesta di amicizia Giusto Futaba Lasciamo spiegare questa roba alla super hacker L'hacking non c'entra proprio in mente Persino tu dovresti essere in grado di spiegarlo Resta solo da scegliere il punto d'ingresso Non ci saranno nemici nell'area dal quale siamo fuggiti ieri Una volta arrivati nel luogo interessato Bisogna solo pronunciare la parola chiave Non resta che fidarci di Sofia e vedere dove ci porterà Allora facciamolo Sto facendo troppe voci assieme E la mia voce sta Piano piano morendo Oh Ryuji intanto si è tutto distorto Con la faccia allungata Oh rieccoci Oh Allora ce l'abbiamo fatta? I vostri vestiti da ladri fantasma Già anche tu Avevo dimenticato questa sensazione La fusione di forma e funzione Davvero magnifica Guardate È la splendida ladra Io sono la splendida ladra Ok non perdiamo tempo Però devo ammettere che questi abiti Però devo ammettere che questi abiti fanno riaffiorare molti ricordi Possiamo perderci nei ricordi più tardi Guardate un po' Quindi è così Così è questa la prigione Ma cos'è quell'edificio? Questo posto è pazzesco Niente sfugge D'altro c'è combinazione cromatica di questo posto A questo aspetto A causa della cognizione di qualcuno Giusto? Esatto Probabilmente quella di Alice Deve esserci un motivo Per cui la distorsione lì è così forte Quindi vuoi dire che Quella è la fortezza della regina Che regna su questa prigione Di certo l'aspetto le si addice Gli edifici qui intorno Sembrano ancora normali però Sembra che quel logo Abbia un raggio di distorsione limitato La prima volta che siamo venuti qui Siamo entrati più giù All'incrocio E' lì che abbiamo visto Un gruppo di agenti ombra Che tiravano fuori Per qualcosa dal petto delle persone Oh vuoi dire quel gioiello Che abbiamo visto? Che cavolo era? Forse era un desiderio Ciao ladri fantasma Oh Sofia Porca vacca Una vera IA in forma umana Wow come sei carina Sofia Hai assunto una forma davvero affascinante Non riesco a smettere di guardare Le linee meravigliose e sinuose Non ho mai visto un abito del genere Sembra soffice Posso provare a strapazzarlo? Strapazzarlo? Credo voglio provare a tastare i tessuti Dei tuoi vestiti Mentre ti abbraccia Sofia Richiesta negata Non sono una bambina Né un cucciolo Niente strapazzamento Comunque come fanno le Yastra Abilie e la proprietà Che domanda era quella Yusuke? Non adesso Sofia Dici di più su quel desiderio Che hai menzionato È il termine usato dalle ombre qui Dicono cose come Ghermite i loro desideri E dobbiamo offrire questi desideri Al monarca In base al loro linguaggio E al comportamento Ipotizzo che il gioiello Menzionato in precedenza Possa essere un desiderio Ha senso Quando abbiamo visto Alice qui Anche lei ha parlato di desideri Quindi se Alice è il monarca Allora davvero lei È la signora del palazzo Del prigione Ma questi desideri Sono fatti davvero Delle cose che la gente desidera Ma soprattutto Ghermine i desideri Che cosa ne fanno? Scoprire cosa è successo A quelli che sono stati attaccati Potrebbe rivelarci qualcosa Dove potrebbero essere Quelle vittime ora? Da qui non vedo nessun posto Dove potrebbe ottenere le prigioniere Non lo so Forse le tengono rinchiuse Da qualche parte Ditemi Quelle persone che avete visto Gredire Siete sicuri Fossero umani? Che vuoi dire? Beh Non potevano essere ombre Magari Se ci fossero umani Intrappolati in questa prigione Adesso Non ci sarebbero Un'enorme agitazione Nel nostro mondo Interi gruppi di persone Che spariscono così dal nulla Questa sì che è un'ottima osservazione Su internet Non c'era niente al riguardo Quindi Nessuno sta effettivamente Scoparendo Scoparendo nella realtà Capisco Le ombre Cosa sono le ombre? Le ombre È la parte di te Soppresso nel tuo subconscio In pratica È solo un tuo Altro io Vuoi dire che Il loro io principali Stanno bene? No L'ombra è il vero io Sono due facce Della stessa medaglia Quindi se un desiderio Viene sottratto All'ombra Di qualcuno Cosa succede A quella persona Nella realtà? Devo dire che Ho un brutto presentimento A riguardo Stanno forse Cercando di influenzare La realtà Facendo qualcosa alle ombre Allora Come dobbiamo agire? Sembra un'emergenza Non dovremo salvare Immediatamente le vittime No Era solo un'ipotesi Dopotutto Abbiamo visto solo La situazione All'interno del mondo cognitivo Finché non scopriamo Le conseguenze Di tutto questo Sul mondo reale Possiamo sapere Solo metà Di quello che sta succedendo Direi che Per prima cosa Dobbiamo indagare Su Alice E sulle sue vittime Inoltre Se facciamo Un passo falso Nel mondo cognitivo È possibile Che il signore Possa avere Un arresto mentale Nel mondo reale Giusto Dobbiamo capire La situazione Prima di poter agire Concretamente O faremo solo danni Indaghiamo Su Alice Allora Ricevuto Ma Cosa Cosa possiamo fare? Andare ad apertura Di negozi A caso Probabilmente funziona Solo la prima volta Che ne dite Se ce ne occupiamo Una volta usciti Da qui? Ok Andiamocene da qui Di già Abbiamo già finito La missione Entrati e usciti Come se nulla fosse Ci distorsiamo Rieccoci qua Mi piace Il nuovo vestito Di Futaba Comunque Tranne il cappello Beh abbiamo Confermato la presenza Della prigione Adesso indaghiamo Su Alice E sulle possibili Vittime E come facciamo? Su cosa Indaghiamo? Su eventuali Dicerie Sul conto di Alice Voci sul fatto Che abusi Degli altri O altri comportamenti Simili Ottima idea Raccogliamo Tutte le informazioni Che riusciamo Ad ottenere Sia su internet Che in giro Mi occupo io Di spulciare La rete Ma se vogliamo Avere prove Definitive sulle voci Credo che A un certo punto Ci servirà Indagare Direttamente Con lei Avvicinare Una pop star Di persona Sembra Un'impresa Davvero Ardua Questo proposito Forse potrei Incontrare Alice domani Cosa? Che sul serio? Ma come? Beh avevo Chiesto al presidente Dell'agenzia Per modelle Se fosse possibile Incontrarla Anne Sei diventata brava Nel tuo lavoro E ora che ci faccio caso Mi sembri anche più adulta Mi sembri molto più Matura Ho saputo che avrebbe girato Uno show televisivo Da qui vicino Quindi ho chiesto Di poter visitare il set Speravo di imparare Qualcosa da lei Ci avevo rinunciato Dopo aver preso impegni Con voi Ma forse Sono ancora in tempo Per rimettere in moto La cosa Un tempismo perfetto Quasi un segno del destino Sì Così si fa Lady Anne Ma Non vi assicuro niente E comunque Sarà impossibile Avvicinarla Inoltre il nostro gruppo È troppo grande Al massimo Posso chiedere Di portare Solo un'altra persona Ok Vado io Beh Allora è deciso Contiamo su di te Phoenix Punzecchiala un pollice Quando la incontri Così magari Le tiri fuori Qualche prova Ci penso io Oh Sei prontissimo Credo che verrò con voi Andrà tutto bene A patto che nessuno Mi veda Per oggi con te Concentriamoci Sulle sue possibili vittime Ok E cosa dovremmo fare Andare in giro E ciao Sei entrato in un mondo cognitivo Sembra che siano Già tutti a spazio A raccogliere informazioni Non dobbiamo essere da meno Premi cerchio per parlare Ok Puoi ottenere informazioni Anche da altre fonti A volte I negozi locali Possono essere ulteriori informazioni Sul monarca Inizio indagine Ma Io avevo il terzo occhio Nel metaverso Non ce l'ho qui Nella realtà Futaba Tu in mezzo alla gente Incredibile Troppa gente Non ce la faccio Voglio tornare a casa Cavolo Futaba Tutto bene Non avevi detto Che la scuola Ti stava abituando Ai luoghi più affollati Ho sottovalutato L'edizione vacanze estive Di Shibuya Una simile orta di gente Davvero troppo per me E anche se ignorassi la cosa Avvicinarmi a persone Che non conosco Che sia Spero di chiaro Chiedere informazioni È fuori dalla mia portata Ci penso io Tranquilla Hai ragione Lascia che ce ne occupiamo noi Tu hai già una fonte online Da monitorare Futaba Posso darti una mano Futaba Possiamo entrare Entrambe monitorare Il fronte online Oh Grazie Sofia È tempo di unire le forze E formare il team Cyber Segugi D'accordo Ti aiuterò In qualunque modo Tu voglia Bella mossa Futaba Contiamo su di voi Grazie per avermi rassicurata Ragazzi Mi sento un pochino Già mio agio ora Oh Ehi Perché non prendi questo Phoenix Per ringraziarti Dell'aiuto Che posso assisterti Nella ricerca di informazioni Una papaya salata Grazie Futaba Io però Non vorrei chiedere Cibo a Yusuke Poverino Già ne ha poco lui Yusuke Stai guardando questo murale Per caso? Alice è più popolare Di quanto immaginassi Non riuscirai a evitare Le discussioni su di lei Nemmeno se volessi Insomma Alice è il paese delle meraviglie Devo ammetterlo È un ambiente di lavoro Affascinante Scenografico Per un artista Nel mondo reale Però non possiamo correre Strano La statua del cane fedele Bucico I cani non sono umani Ma vengono comunque Considerati amici dell'umanità Non importa cosa sono L'importante è la fiducia reciproca Farò del mio meglio Credo che dovrò Addentrarmi a Shibuya Per trovare delle informazioni E comunque Continuo a dirlo Schiacciare cerchio Invece che X È strano per me Non ci sono impostazioni Per cambiare questa cosa? No Credo che dovrò Abituarmi Cioè basta Il video noleggio C'è ancora? Un negozio Che noleggia media È un bel po' di lavoro Solo per avere Delle informazioni Già Invece qui Ci avranno qualcosa? Le librerie in città Hanno molto più Molta più scelta Peccato che ora Non ci sia il tempo Per leggere Qualcuno mi iscrive Coso? Credo di aver trovato qualcosa Che era nella prigione Puoi venire nel vicolo Dietro al negozio di Softair? Ok Arrivo subito Intanto fammi parlare con Anne Avevo sentito che la gente Impazzisse per lei Ma così siamo davvero fuori scala Continuo a sentire storie Di relazioni andate a monte O persino di gente Ricoverata per lo stress E il nome di Alice È sempre coinvolto È davvero possibile Che abbia a che fare Con tutto questo? Ma poi Come? E perché? Forse perché ruba Desideri E quindi Tipo una relazione Se tu rubi Il desiderio Di amare quella persona Glielo rubi Suppongo non sia il caso Di scervellarsi troppo adesso Oh ho un'idea Avete fame? È difficile pensare A stomaco vuoto Sapete? Vado a prendermi una crepe Per dare inizio Al brainstorming Oh già in mente Quella che voglio Cioccolato e crema extra Oh e magari Ci faccio mettere Anche qualche fragola Ma tu Non eri a dieta? Non esagerare No è tutto ok Penserò più tardi A bruciare le calorie extra Brava Annettina Forse se gli dicevo Che ho fame A me me la dava anche a me Chi lo sa Ehi tu che se ci fai qui? Certo che ho sentito Parla di lei In classe ne parlano tutti Soprattutto i ragazzi La donano alla follia Il fidanzato di una mammica Addirittura è arrivato A lasciarla Per il suo improvviso Interesse per Alice Sì è carina E tutto il resto Ma al tal punto Da interrompere una relazione 6% Uh qualcosa L'abbiamo ottenuto Ah Ruto invece? Ah Ho sbirciato all'interno Del negozio 705 Poco fa E tutti i clienti Avevano quel biglietto D'invito Il numero dei suoi amici Si starà probabilmente Impennando Mentre parliamo Aru questo è È il tuo negozio? Ah no è un karaoke Ma c'è sempre stato? Sai che non mi sembra? Oh il big bang burger Ma dai non ti fanno più vedere Ma dai non ti fanno più vedere Neanche l'interno Ho capito che hanno stretto Un po' di cose Ma almeno l'interno Del big bang burger Dai Che palle Tu invece hai qualcosa da dire? Alice È un'intervista o cosa? Mi spiace Ma io la odio a morte Chiede a qualcun altro Alice è il tipo di persona Che gioca con la vita degli altri Le interessano soltanto Arricchirci Ha spese dei suoi fan Beh È comunque utile Grazie Vediamo se magari Dentro la farmacia Troviamo qualcosa Ok Devo dire che la farmacia Comunque ha migliorato I suoi prodotti Non ha più prodotti Ti curo 50 HP Ma ti prendi La malattia mortale Grazie Va bene così per ora Oh il 777 Io lavoravo qui una volta Lo sapevi? Re Karag Karagito E Nikuman straniero Ah c'è la stessa roba Che c'era già prima Grazie Chissà se la tipa lavora Ancora qui tra l'altro C'è Makoto vicino al cinema Ehi Dragon like a Yakuza È finalmente uscito Ah Non posso mica andarci da sola Però Prendiamo due biglietti Ah Da quant'è che sei lì Non serve comunque Ero solo rimasta colpita Dalla locandina Tutto qui A ogni modo Ho sentito Che diversi dipendenti Di questo Cimna Sono stati licenziati All'improvviso E gira voce Che sia stata colpa Del fatto che non fossero Che non fossero Fan di Alice Che storia è questa Nessuno viene licenziato Per un motivo così assurdo Senza che stia succedendo Qualcosa di ancora più assurdo Dietro le quinte Già È strana Come cosa Comunque Dragon like a Yakuza È una citazione Poco velata Ovviamente Alla serie Yakuza Dell'ultimo titolo Yakuza like a Dragon Ryuji Eccoti Voi parlate di Alice Voi parlate di Alice Aspetta Vorrei Scusatemi se mi intrometto Ma vorrei ascoltarvi Dai amico Mi servono quei soldi Ti prego Di nuovo Ti avevo appena fatto Un prestito Per permetterti Di comprare Quelle stronzate di Alice Lo so Ma sta per uscire Un nuovo lavoro Di Alice Lo voglio Cioè Credo che mi mancherebbe Il respiro Se non riuscissi ad averlo Quel tipo Con i capelli castani È lo stesso Che abbiamo visto prima Giusto Amico Ma Tanto per cominciare Perché tutto Un tratto Sei ossessionato Da un adult Qualsiasi Cioè Dici sul serio Sei davvero andato Da uno strozzino Non ci posso credere Dunque Si sta facendo Prestare dei soldi Dagli strozzini Per avere Il merchandise Di Alice Non è affatto normale E poi L'altro tizio Non diceva Che l'ossessione Dell'amico È iniziata All'improvviso Che sia stato Influenzato Dal metaverso Può essere Figa 50% Tutto ad un tratto Guarda quel tizio Con i capelli castani Non era Quella roba di Alice All'inizio Ho pensato Che potesse essere Uno di loro Visto lo sguardo spento E infatti Non mi sbagliavo E anche il tizio Di fronte al bucico Si stava comportando In modo simile Vero Non può essere Una coincidenza Un tizio davanti A bucico Me ne son perso uno Ah ma aspetta Ma è lui Alice Sei troppo adorabile Nessuno è come te Io Io farei qualunque cosa Per te Ti ricomprerei Quei gioielli Ti riporterei Nei ristoranti Più costosi Darei la vita Per te Questo tizio Ha perso la ragione È come se non ci vedesse Nemmeno Essere pazzi Di qualcuno È un conto Ma qui Stiamo andando Un po' oltre 77% Perfetto Ha sentito Delle notizie Interessanti Sembra che ci sia Un negozio A Central Street Che vende vestiti Della linea di Alice Forse lì potremmo Ottenere delle informazioni Dove però Ma non solo Di tutta quella gente Che ho visto Entrare nei negozi Che vendono Qui i suoi prodotti La maggior parte Erano uomini Dello sguardo assente E ognuno di loro Ne usciva con sacchetti Pini zeppi Di merchandise Acquisti Compulsivi Come quelli Non possono essere Una routine Ah aspetta Forse è questo Il negozio Benvenuto Alice e i raghi Oh Intendi la linea Di abbigliamento Di Alice Ma certo Che la trattiamo Mi dispiace tanto Però abbiamo esaurito Le scorte Abbiamo esposto i capi Appena dieci minuti fa Ma sono andati a ruba Mi dispiace tanto Ma non Di non poterti aiutare Wow Tutti esauriti in dieci minuti Immagino che sia possibile Ma i fan Devono essere davvero appassionati Per comportarsi così Cerchiamo di non dimenticarlo 100% Indagine Completata E sono scomparsi tutti Ah no Eccola Liaru Non era solo scomparsa Come va con la ricerca Di informazioni Perché non ci incontriamo E vediamo insieme Quello che abbiamo raccolto Ma Kota ha ragione Chiamiamo a rapporto Tutti quanti Voglio scovare altre voci Facciamolo Va bene Allora andiamo a incontrarci Con loro Al ponte di collegamento La mia voce Piano piano sta morendo Allora Come è andata Scoperto qualcosa di utile Sulle potenziali vittime Sì Abbiamo scopato Un paio di volti familiari Abbiamo trovato Alcune persone Che sono state attaccate Nella prigione Davvero L'avete trovate Il che significa Che a subire L'agguato Nella prigione Sono state davvero Le loro ombre E non le loro forme umane Ma c'è un'altra cosa Si stanno comportando Tutti in modo strano Strano come Sono tutti usciti Di testa per Alice Alcuni stanno persino Chiedendo dei prestiti Per poter comprare Altra merda Nel suo negozio È una roba assurda Adesso che me lo fai notare A Shibuya Ho visto gente Comportarsi in modo simile Sì Come ho detto Secondo me Lei Ruba il desiderio Tipo L'amore O Altri desideri Importanti E Instilla Nelle vittime Il desiderio Solo suo Quello di Alice Già Come quella coppia Che stava per scoppiare Perché lui comprava Ogni sorta di gadget A tema Alice Alcuni hanno persino Lasciato il lavoro Perché i colleghi Non erano Anch'essi Dei loro fan Io ho addirittura Trovato notizie Su alcuni fan di Alice Che hanno sostanzialmente Aggredito chiunque L'abbia criticata apertamente All'inizio Pensavo che Alice Fosse semplicemente La moda del momento Ma Sembra molto peggio Di così Mi chiedo Se Alice Alice sia L'unico cattivo Di questo titolo Nel senso Sarà il grosso O è solo una parte Perché tecnicamente Beh È luglio Abbiamo Quasi due mesi di tempo Ergo Una sessantina Di giorni In game Può essere Che non ci sia Solo Alice Nella trama Non lo so Forse impazzire Sono stati tutti quelli A cui è stato sottratto Il desiderio Se questo è il caso Dobbiamo fare qualcosa Concordo Se comportamenti così Abberranti Dovessero continuare Di lagare La nostra potrebbe Trasformarsi presto In una causa persa Essendoci di mezzo Il metaverso Siamo gli unici Che possono mettere Le fine a tutto questo Dobbiamo salvarli Chi è? Sembra che abbiate finito Di raccogliere informazioni Sulle vittime di Alice Inizierete subito L'indagine su di lei? Domani O la va o la spacca? Già Chiudiamola qui per oggi Riprenderemo domani Nella nostra gitarella Buona fortuna con Alice A tutti e tre Grazie Lasciate fare a noi Sono tornato alle Blanca Già Domani Sarà una giornata Pesante O la È già arrivato qui Il poliziotto Oh Stai uscendo Non tornai troppo tardi Sì Suo giro Tu non dovresti Indagare su di noi? Capo Questo carry È fantastico Oh Grazie Ma voi due Sembrate simili Ragazzi Cioè Sembrate fratelli Studio tv Set di riprese Quindi sarà Trasmessa in diretta Eh Persino io sto iniziando A essere nervoso Voi come vi sentite? Ehi Resta nella borsa Se scoprono che abbiamo portato Un animale domestico Qui dentro Ci cacceranno via Un animale Fai il bravo Lì dentro Per favore Oh Beh Io non posso farmi vedere Ma anche voi Dovete fare il vostro meglio Per non farvi notare Siamo a posto Non faremo altro Che osservare Anch'io devo impegnarmi Per non farmi notare? Sì Resisti ancora un po' Sofia Nessun problema Oh Eccola che arriva E io mi nascondo La signora Alicia È sul set Porca troia Che pacchianata Accidenti È davvero adorabile Riprendiamo la linea Tra 5 4 3 2 1 È il momento Della nostra rubrica Incontra una star Oh I bei tempi In cui c'era Checi qui Con noi oggi abbiamo Un ospite speciale Ha preso Ha preso d'assalto Il mondo della moda E l'ha conquistato Date un caloroso benvenuto Alla stilista Alice Raghi Grazie per avermi invitata Grazie a te per essere venuta Alice Ti sei data parecchio da fare Ultimamente Non è così? È solo grazie ai miei fan Che sono state in grado Di raggiungere questi traguardi E vedo che i tuoi fan Sono davvero tanti Una nutrita schiera di sostenitori Sbaglio Ho ideato tu Il completo che indossi oggi È così carino Davvero espressivo Grazie mille Il tema della linea È Alice nel paese delle meraviglie Non l'avrei mai detto Sento che la moda È una cosa rara e stupenda E che può condurre chiunque In un mondo costruito Sulla base dei propri sogni Puoi scoprire un lato di te stesso Che magari non sapevi nemmeno di avere La moda può fare tantissimo per noi Cerco di concentrarmi al massimo Ogni volta che lavoro Una nuova creazione Sagge parole Quelle di una veterana Del successo del settore Se posso chiedere Cos'è che ti ha spinto A diventare una stilista? A essere sincera Da piccola ero molto timida A scuola non avevo amici Mi sentivo molto sola Volevo cambiare Ma proprio Non riuscivo a capire come fare Poi un giorno Vi di un vestito stupendo Nella vetrina di un negozio Quando lo indossai Il mondo intero Mi sembrò diverso Fu come se fossi stata colpita Da un raggio di luce Cecante Posso davvero cambiare Ecco cosa pensai Indossando quel vestito Ogni giorno Mi sforzo Per far provare La stessa sensazione Chiunque indossi Una delle mie creazioni Voglio dare agli altri Quel raggio di luce E questo Che mi ha spinto Che mi ha spinto A entrare Nell'industria Della moda Davvero Ah Oggi Ora capisco come mai I giovani ti amano Così tanto Come gestisci Tutte le voci Sulle tue relazioni Cosa Me ne sono accorto Solo ora Io ti amo Questo è davvero Inaspettato Andiamo Smettila Questa scenetta È durata fin troppo Dico davvero Non posso vivere Senza di te Cosa ti amine E io allora Stronzo E dai È tutto vero Quindi quei due Erano già fidanzati No Wow Che disastro Non posso crederci Pubblicità Ora Ti supplico Alice Ti prego Ma sta zitto Che diavolo Ti è preso Cos'è questo Cos'è questo Disastro Eh Hanno annullato Le riprese E mi hanno andato Via tutti dal set Dio mio Questa cosa È stata Trasmessa in diretta Giusto Non posso credere Che ci sia Che ci sia Dichiarato in quel modo Devo ammettere Che è un tantino Esagerato Quindi Credi che A quel presentatore Sia stato preso Il desiderio Da Alice Molto probabilmente Sì Ma che razza Di presentatore Lo farebbe in diretta Già Sembrava non essere In pieno possesso Delle sue facoltà mentali Come se non fosse Cosciente E qualcos'altro Lo stesse controllando Morgana Giusto Non so se è davvero così Ma la sua personalità È cambiata come quando Viene rubato il cuore Di qualcuno Dopo il tesoro Forse Alice Può controllare Tutti quelli A cui ruba il desiderio Se consegnano I propri desideri Al signore Finiscono sotto Il suo controllo Come con Alice Capisco Questo spiegherebbe tutto Fantastica come sempre Lady Anne Ma ciò vorrebbe dire Che Ruba i desideri Delle persone Già Proprio così Alice ha detto Di voler essere Un raggio di luce Per la gente È quello che ho sempre Voluto anch'io Ho letto qualcosa Su di lei In una rivista Una volta E mi sono sentita In sintonia con lei È per questo Che avevo chiesto Di poter assistere Allo show Volevo vederla Di persona Ma ora Mi chiedo Se non fosse altro Che Lady Anne Wow È stato grandioso Ma quella Era Alice Presto Nasconditi Phoenix Signorina Alice Siamo in un luogo pubblico La prego Abbassi la voce Va tutto bene Visto Non c'è nessuno Comunque Hai visto La faccia Di quella tipa Ha completamente Perso la testa I presentatori Di successo Come lei Fanno le facce Da Oscar Quando le cose Smettono di andare Secondo i loro Piani Signorina Alice Potrebbe smetterli Di fare cose Del genere Eh Che cosa Intendi dire Ero io La vittima Su quel palco Cos'è esattamente Che dovrei smettere Di fare Io non So come fa O perché Ma dopo averlo Visto Deve esserci qualcosa Lei Ah Quindi vuoi Che ti punisca Di nuovo No 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 Ah Per favore Mi perdoni Tag Oio Ops Che incidente Terribile Ma si è buttato Lui a terra Comunque Proprio come Quello sul set Un incidente Terribile Anche io Mi sento Ancora sconvolta Sai Non fa parte Del tuo lavoro Stare dalla mia Parte O vuoi forse Finire distrutto Come il mio Ultimo manager Vuoi finire Inchiuso Nella tua stanza Come lui Beh comunque Non importa Non voglio Dei giocattoli Che non Ubbidiscono Basta Allora Supplichami Di perdonarti Finché non Avrai provato Lo stesso Dolore Che hai causato A me Con le tue parole Perché non Fai quello Che hai fatto Ieri Supplicha Con il viso Tutto coperto Di mocio Farò Un altro Video Se ti va Forza Implorami Fallo Fallo Non mi Fermerò Finché Non lo Farai Chiaro Ehi Sembra che Quel tipo Stia soffrendo Davvero Se lei Non la smette Ehi Ferma Ma che abbiamo Qui Così è Troppo Era davvero Troppo Hai detto Di voler Essere Un raggio Di luce Per la gente Questo Non è mica D'aiuto Oh Stavamo Solo Scherzando Non è vero Sì Vai a prendere La macchina Ora Oh Ehi Aspetta Un momento Tu sei Antakamaki Cosa Sei chi sono Sì Conosco le tutte Le modelle Leggo ogni rivista Di moda Che non appena esce A dire il vero Ti ammiro molto Ti va di diventare Mia amica Tieni Ti do un biglietto Avrai sicuramente Emma Ma vero La mia parola chiave È Non perdere tempo Non accetterei mai Qualcuno che tratta In quel modo Un'altra persona Oh Peccato Ma apprezzo La sincerità Allora Tu invece Che ne pensi Ti va di diventare amici Passo anch'io Scusami Oh Due su due Aspetta Tu eri il 705 L'altro giorno Non è così Qui abbiamo finito Andiamo Fionix Ah che peccato Ma so di avergli dato uno dei miei inviti Perché non obbedisce Perché io Non sono un coglione Così me ne sono andate Siamo tornati qui Comunque Mi dispiace Ero così turbata Non serve scusarsi Sei stata fantastica Scoprire la verità Su Alice Già È tutto grazie a te Lady Anne Quindi Lady Anne L'ha messa alle strette Ha tirato fuori il telefono E ha provato ad aggiungerli Tutti su M immediatamente Da quello che abbiamo visto Potrebbe sapere Che è possibile usare M Per attirare le persone Nella sua prigione Le porta nella sua prigione Poi ruba i loro desideri Così fanno tutto quello che dice Sospetto che stia facendo Un bel po Da un bel po ormai Capisco Questo spiega molte cose Ma qual è il suo scopo finale Non vedo come questo Pessimo comportamento Possa giovarle Non è come Kamoshida Ottima osservazione Sembrava divertirsi Con un mondo A comportarsi così male Comunque sia Ha il fegato Di mettere su una Su una tragedia Del genere In diretta tv Ormai non ragiona più Più a lungo Lasciremo correre Più saranno Saranno numerose Le vittime E sono già un bel po Ora è il momento di agire Ma come dovremmo muoverci Che c'è un tesoro Nella sua prigione Qui viene il bello Riesco a fiutare un vago odore Di qualcosa di simile A un tesoro Ma Cos'è un tesoro? È il nucleo condensato Dei desideri Di un signore E ciò che fa nascere Un palazzo Lo alimenta Di solito Rubiamo il tesoro Per innescare un risveglio Del cuore Del nostro bersaglio Interessante E se non c'è un tesoro? Non possiamo risvegliare Il cuore di Alice Per ora Concentriamoci Sul rintraccello Odore simile Al tesoro Di cui parlava Morgana Questo dovrebbe Almeno metterci Sulla pista giusta Per trovare Degli indizi Domanda Perché dobbiamo Risvegliare Il cuore di Alice? Perché? Beh Perché fa del male Alle persone Quindi Alice Deve essere Solo fermata Risvegliare Il suo cuore Non è necessario No Sconfiggere la sua ombra Non serve Nel peggiore dei casi Potrebbe finire Per morire Nel mondo reale La morte È un esito Accettabile Eh Ma cosa? Sono l'amica Dell'umanità Devo Determinare Le scelte migliori Per il bene Della stessa Alice Ragami Fa soffrire La gente Ogni giorno Dovremmo Assicurarci Di fermarla Il prima possibile Perché non fare così? Perché lei Deve ammettere I suoi crimini Non capisco Voglio capire Ma non ci riesco Dov'è la falla Nella mia logica? Capisco Il tuo punto di vista Sofia Alice Sta facendo Cose terribili Potremmo limitarci Ad aiutare quella gente Senza pensare A ciò che le accade Il metaverso È una cosa seria Puoi porre fine A una vita Senza correre alcun rischio Eppure Scegliamo sempre Di risvegliare Il cuore del bersaglio Invece di fargli Del male Fa parte del codice D'onore Dei ladri fantasma Proprio così Persino migliore Sofìa Ho capito Mi unirò E ladri fantasma Devo imparare Di più sui cuori Così da poter diventare Un'amica migliore Phoenix Posso unirmi E ladri fantasma In questo modo Sono certa di poter Apprendere molte cose Riguardo al cuore umano Devo scoprire Di più sul cuore E sui ladri fantasma Sei già una di noi Grazie Phoenix Grazie per esserti Unita a noi Sofia Benvenuta Nei ladri fantasma Felice di averti con noi Ora Scegliamo il nome In codice Oh Ora Sì che si parte La parte nostalgica Snowy Sofì Emoci Non lo so Snowy Perviene tutto quel bianco A me sembra Un nome da un can Di un cane Sembra proprio Il nome ideale Per un cane bianco Forse un nome ironico Per un gatto nero Perché guardi me Forse dovremmo evitare Qualsiasi nome Che la faccia sembrare Un animale domestico E se facessimo Come abbiamo fatto Con Mona Chan Lo sapevo che era Sofi Il nome giusto Vaffanculo Dopotutto Avete trovato anche lui Nel metaverso Tipo Che ne dite di Sofi È praticamente Il suo nome È per quello Che non l'avevo scelto Cazzo Mi piace Davvero Voglio essere Sofi Verda Io avrei scelto quello Ma mi sembrava Troppo palese Allora In questo mondo Sarei Sofia E nel metaverso Sofi Che figata Ehi Diamine Sei già Sei già più umana Di quanto ti abbiamo conosciuta Imparo continuamente cose Grazie a internet Sto imparando nuove parole Anche adesso Io Non iniziare a parlare In questo gergo strano Ok Ok Abbiamo un nuovo membro Ora dobbiamo trovare Una missione per lei Fermeremo Alice Bene È il nostro dovere Considerato che siamo diventati Ladri fantasma Per aiutare chiunque Stia soffrendo Ero anch'io Una di quelli Un tempo Magari non conosceremo Le persone Di personale vittime Ma non Non aiutarle Rischierebbe di infrangere Il nome Del ladri fantasma Finché in giro Ci sarà gente Nei guai Non volteremo Loro le spalle Hai ragione Saremmo un raggio Di luce Per tutti Anche per Alice Mi sono registrata Come ladro fantasma Bene I ladri fantasma Sono tornati Percepisco un forte legame Con i miei amici Oh Cos'è questa roba Cos'è Ma Oh no E questo è il legame Legame Sbloccato la funzione legame Man mano che i ladri fantasma Rafforzano i loro legami Otterranno diverse abilità legame Le abilità legame Sono acquistabili Con i punti legame Selezionando legame Nel menu Cosa sono i punti legame Nel menu comandi Otterrai i punti legame Aumentando il tuo livello Legame Come Il livello legame Aumenta tramite gli eventi sociali Nel mondo reale Oppure combattendo nel metaverso Interessante Il prossimo passo È svolgere tutti i preparativi necessari È palese che per venire Sia meglio che curare Ci serviranno armi E altri rifornimenti Visto che sei tu quello Con ottimi contatti Lasciremo fare a te gli acquisti Come al solito Noi ci prepareremo Quando sarei pronto Anche tu Facci sapere Non avete più le armi Che avevamo all'inizio Di nuovo in azione Ok Andiamo a fare il rifornimento Che ne dici Di iniziare Con la meta più vicina E raggiungere la clinica Takemi I suoi farmaci Sono sempre stati miracolosi Per noi Mi sentirei più tranquillo Se ce ne portassimo dietro Un po' come Anche questa volta Ma mi sa tanto Che Takemi è in vacanza Morgana Comunque Salviamo Mi sentirei più vicina Andiamo a fare il nostro Avefano Time Spade Tieni Grazie per la visione!